Ciao a tutti! Come state? Spero che avete passato un bel weekend. Oggi preparerò carne a vapore con le verdure, carne di manzo, fagiolini verdi, carote, poi aggiungerò carote e anche le zucchine verdi e patate. Spero che vi piaccia. È un piatto molto veloce e anche salutario. Assalamualaikum, bello, bello, spero che avete avuto un weekend bene. Il giorno vi ho preparato con ilham di bianca, con la fagioli, con la fagioli, la fagioli e le pietà, e le pietà e la fagioli, vi ho aggiungerò la fagioli e le pietà. Spero che vi ringrazio a tutti, è molto forte e molto delicato, Uff nefs l-wqt d-ghi d-ghiat si t-tab Vedete, u aggjultu l-karote e l-zucchine Poi metteremo un koperchio Kozi Sarakotto piu velox possibile Kif ma ketxufu zna l-xizzu dienna u l-gra'a U ggadim bad n-ghtayuhi b-l-ghtah Baxi tablina d-ghiya Ha aggiunto anche la barba rossa Kif ma ketxufu ziq selecting barba di ella Come vedete, frulleremo una salsina Che l-accompagniamo a nostre verdure E la nostra carne a vapore Allora abbiamo il yogurt greco come possiamo mettere o il limone o altrimenti l'aceto un po' di aceto, questo è quello marocchino abbiamo capperi, pepe rosa un po' di curry, un po' di peperoncino ma un pizzichino, non tanto rosmarino se non avete, le erbe cipolline un po' di sal e un cucchiaio di olio come potete vedere, fare un po' di salsa che si mette con la cipolline e la cipolline abbiamo il yogurt greco, che si mette con il supermarché abbiamo un po' di limone, un po' di limone o un po' di calma un po' di calma, un po' di calma, un po' di calma un po' di calma, un po' di calma, un po' di calma un po' di calma EQ canigli un po' di la cipolline, un po' di calma we canta il心itore, seår il cipolline, un po' di calma un po' stentano al petto,Еc cicl desafio la cibuletta e un po' di zettino e un po' di melchia e poi aggiungiamo tutto con la cibuletta o questo abbiamo messo tutto manca solo alla fine quando abbiamo frullato tutto e aggiungiamo di peperosa e poi aggiungiamo tutto tutto il cappare non ho parlato di più la cibuletta dopo aggiungiamo la cibuletta la cibuletta avevo dimenticato di dirvi che ho aggiunto anche i piselli come vedete il piatto è già pronto è molto semplice e anche veloce spero che vi è piaciuto e vi auguro buon appetito spero che vi auguro la cibuletta la cibuletta la cibuletta spero che vi è piaciuto spero che vi è piaciuto che vi è piaciuto e vi è piaciuto e vi è piaciuto con la cibuletta e vi è piaciuto qui è piaciuto non 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 ma